eccoci qui ragazzi buongiorno a tutti voi benvenuti in questo nuovo video buon inizio di giornata allora qualche informazione sul mercato della roma ve la do anche questa mattina ma prima vi devo dire due tre cose extra mercato diciamo parliamo di due tre argomenti extra mercato allora prima di tutto fatemi ringraziare con grandissimo affetto nick giallorosso che un di giorni fa fatto un video sul suo canale anzi vi invito a iscrivervi sul suo canale e a seguirlo perché in ambito roma in ambito roma come youtube ragazzi non ce n'è per nessuno nick è il top e quindi guardatelo segnatevi al canale perché veramente veramente merita come uomo e come tifoso romanista lo voglio ringraziare perché nel suo video mi ha pubblicamente fatto pubblicità pubblicamente fatto tanti complimenti come persona come youtuber come intenditore e comunque come io parlo della mia roma con affetto con amore quindi lo ringrazio tanto con il che ci conosciamo da più di due anni abbiamo un gruppo insieme whatsapp con altri ragazzi tifosi della roma per cui ci abbiamo un rapporto molto stretto di reciproco affetto e stima quindi grazie nick e ti mando un abbraccione secondo punto allora per chi vuole domenica andare allo stadio non credo che si trovino più biglietti perché comunque è sold out l'olimpio quindi chi deve andare però e deve organizzarsi sappiate che il programma il cancelli dovrebbero essere aperti tra le 4 e le 5 del pomeriggio alle 19 e 45 ci sarà la presentazione della squadra vedremo se ci sarà anche winaldum penso di sì comunque non lo so dipende se potrebbe essere già ufficializzato oggi l'acquisto oggi stamattina insomma farà le visite mediche il calciatore quindi vedremo alle 20 e 45 c'è roma schacta amichevole nell'intervallo ci sarà l'esibizione di blanco che a tutti vabbè è una piccola informazione per voi per cui grande giornata per i tifosi della roma chi ci va insomma io non ci posso andare causa lavoro godetevi insomma la giornata terzo ed ultimo argomento vorrei veramente spendere due parole per mancini il tecnico della nazionale che ha perso una buona occasione per stare zitto e per vedere in casa sua visto visto i risultati penosi penosi e vergognosi che ha ottenuto con la nazionale italiana non qualificandosi per il mondiale perdendo con la macedonia del nord io ve lo vorrei ricordare quindi questo signore che dovrebbe pensare alla nazionale e a come evitare di farci fare figure di merda in europa e nel mondo e che non riesco ancora a capire come sia potuto rimanere cittita della nazionale dopo questa questo episodio si permette di dare consigli a belotti e di dirgli di non andare alla roma perché non sarebbe il titolare ecco questi personaggi che fanno queste uscite infelici perché soprattutto devono spostare l'attenzione verso altri cose invece che verso di lui visto quanto è scarso come allenatore e non mi interessa che voi qui mi stiate dicendo che ha vinto un europeo due anni fa perché secondo me l'anno scorso l'ha vinto per bucio de culo lo dico apertamente quindi guardasse in casa sua non si interessasse alla roma perché la roma a livello a un allenatore che a livello è dieci volte migliore di lui la società è una società strepitosa che ha fatto di tutto per migliorare la roma in ogni settore negli ultimi due anni quindi si facesse i cavoli suoi e guardasse nel suo orticello che è veramente un orticello che sta morendo questo era doveroso dirlo ragazzi doveroso dirlo parlando di mercato ragazzi un po di notizie così al volo visto che andiamo verso il fine settimana e io ve l'avevo detto che questo fine settimana era fondamentale per il mercato della roma si sta rivelando così vedremo se ci sarà ulteriori ciliegine sulla torta vinaldum e noi ve ne parli ancora ieri è sbarcato stasera oggi stamattina visite mediche firma sul contratto quindi quasi ufficiale guinaldo basta non ne parliamo più ragazzi perché ormai è nostro in giornata avere tu è atteso a marsiglia per formalizzare l'accordo con la roma e col giocatore i parametri sono quelli che ho detto ieri 10 milioni di euro più 4,5 di bonus raggiungibili con le 30 presenze e con la qualificazione in champions league del marsiglia quindi veredù ce lo siamo levato dalle scatole fulham stretta veramente finale per clivert offerti 10 milioni a fare in chiusura anche se ieri sera su qualche testata giornalistica e su internet ieri sera sul tardi verso mezzanotte dicevano che tutto era saltato adesso vedremo in giornata se avremo notizie più concrete su questa trattativa e se effettivamente questa trattativa andrà in porto al 100% oppure sarà veramente saltata in giornata anche oggi villar dovrebbe passare alla sandoria con una formula che ancora non è nota ma sicuramente poi se il questo quest'operazione verrà ufficializzata lo sapremo e vi darò informati e per carles per essere la stessa cosa entro questo giornato al massimo domani dovrebbe arrivare a vigo con il celta vigo per firmare il nuovo contratto e lasciare anche lui la roma dopo tre anni vissuti veramente a livelli modesti queste ragazzi le trattative più importanti sul fronte show muro dove belotti c'è un po di stallo show muro dove vi ricordo all'accordo con il bologna la roma non all'accordo con con insomma con la con la squadra giallorossa per diritto e obbligo di riscatto sarà una giornata decisiva questa qui belotti è in stand by però io ho il mio pensiero su questa cosa ragazzi indipendentemente se show muro dove vada o non vada al bologna oppure comunque vada in un'altra squadra da qui alla fine del mercato io penso che belotti arriverà comunque non credo che la roma si possa far sfuggire un'occasione del genere di prendere un giocatore come belotti a zero e di poterlo mettere in uno scacchiere dove ci farebbe veramente comodo come vice abbra perché è un giocatore comunque di esperienza è un giocatore nel suo piano della maturità calcistica è un calciatore che può far bene è un calciatore che lotta che dà tutto per la maglia e che si impegna tantissimo quindi professionalmente è ineccevibile io sono contento che viene perché proprio un professionista per cui io non credo che la roma abbia dei problemi così grandi da non poter prendere belotti se non vende show muro dove quindi io penso che anche questa trattativa andrà andrà a buon fine da da vedere quando da vedere quando chiaramente prima è meglio è perché fra una settimana inizia il campionato e chiaramente belotti vuole trovare una squadra prima della fine del prima dell'inizio del campionato quindi queste ragazzi le situazioni di questo fine settimana che potrebbero o non andare in porto speriamo che vadano tutti in porto la maggior parte godiamoci la presentazione della squadra domenica perché sarà l'ultima amichevole poi ci sarà la settimana che porta al campionato e alla trasferta di Salerno quindi ragazzi vi auguro una buona giornata spero che il video vi sia utile invito sempre a iscrivervi al mio canale a commentare a mettere like e attivare la campanella per rimanere aggiornati sui miei contenuti ringrazio sempre tutti i miei iscritti e quelli nuovi che sono stati una ventina in questi ultimi 3-4 giorni vi ringrazio tanto e vedremo comunque con Michi di fare una live post proprio post questo weekend importante post presentazione della squadra tra lunedì e martedì per adesso ragazzi vi saluto e vi auguro una buona giornata e sempre Forza Roma